Ciao a tutti, bentornati! Il video di oggi è super creativo e soprattutto dovrei dire Ops, ne ho creato un altro. Ebbene, ho fatto un nuovo calendario dell'avvento. Sì, perché il primo praticamente lo avete mandato sold out, ne restano pochissimi e quindi dovevo correre ai ripari e preparare qualcos'altro. E quindi ho fatto lavorare un po' la fantasia e ho detto Ok, facciamo un nuovo calendario dell'avvento super creativo con il Fimo. Conoscete il Fimo? Il Fimo è una pasta polimerica, ci sono tante marche ed è una pasta che poi viene cotta in forno a bassa temperatura e solidifica, trasformandosi in un oggetto permanente. Lo utilizzo per fare bijoux e soprattutto per fare le micro miniature di cibi che utilizzo per le LOL. Ma giriamo la camera e andiamo a scoprirlo. Eccolo qui! Questo è il calendario dell'avvento polimer clay, Fimo. E come vedete ci sono delle bustine di tante forme perché veramente ci sono delle cose dentro che sono troppo carine. Curiosi? Lo andiamo a scoprire subito insieme. Ma prima... Iscriviti al canale e metti like al video. Ci vuole solo un attimo e mi supporterai per fare altri video su questo canale. E cominciamo subito. Sigla, l'ho già detto? Sigla! Il diario incantato è il mio nuovo libro. È un'avventura in un mondo magico che si basa su amicizia, colpi di scena, misteri e... Dal 10 novembre in tutte le librerie. Ma puoi già preordinarlo oggi. Oh, siamo pronti a vedere che cosa c'è dentro questo calendario dell'avvento. Quante cosine. Ovviamente, visto che io adoro farmi del male, proprio soffrire, le bustine me le sono fatte io tutte una per una. In modo da farle calzare perfettamente con quello che ci andava dentro. E ovviamente notate anche, scusate, la finezza del numerino con il logo di Babù, il mio fiorellino. Ma andiamo a cercarci il numero 1. Cosa c'è dentro? Vabbè, che cosa potrebbe non esserci? Ecco il primo panetto. Come vedete non è fimo, ma è Uclei. Questa è una marca che io utilizzo da tanti anni, ce l'ho in negozio da tanti anni, perché è una pasta molimerica che mi piace tantissimo. È leggermente più gommosa, più morbida del fimo, quindi ci vuole meno tempo per impastarla e scaldarla. E soprattutto è a base di cira d'api, non contiene fitalati, quindi se non fate un uso di quelli proprio professionali, potete tranquillamente utilizzare il forno di casa e poi ventilare bene. Ovviamente partiamo con un nero, perché è un colore che serve praticamente sempre insieme al bianco. Andiamo a cercarlo? Il colore 2 è ovviamente un altro panetto e questo è un bianco. Allora, i bianchi saranno alternati, perché ne ho più di un tipo, c'è il bianco normale, il bianco latte, il bianco freddo e questo è un bianco perla, quindi è bellissimo perché è leggermente perlato. Numero 3 Questo è uno stampino a molla, in pratica. Questo stampino taglia il fimo e poi lo spinge fuori, serve per fare dei fiorellini leggermente rilevati. 4 Altro fimo Questa volta c'è un rosa, ma potrebbe essere un lilla, un celeste, insomma i colori sono veramente tantissimi. Attenti al 5, vediamo chi lo trova. Eccolo E' una cosa lunga e stretta. Cose? Oh E' uno spot, ossia una punta, serve per modellare e creare dei tagli, dei buchi. Insomma serve per poter fare delle forme. Il 6 è qui vicino. E' uno spot, però come potete vedere è differente dal primo. Il primo è in plastica, invece questo qui è uno spot in metallo. Termina con due palline, vedete? Due sfere di dimensioni differenti. E serve ad attaccare vari pezzi tra loro, oppure a fare gli occhietti o a attaccare delle piccole parti. Utilissimo. 7 Un altro panetto. Questa volta è un verde, molto bello. Questo si chiama British Green, anche le note di blu. E' molto elegante, mi piace tantissimo. Oh, numero 8. Che c'è qua? Oh, un altro stampino di questi a molla, ma molto più piccolo di quell'altro. E alla fine vedrete che le misure sono ben 3, sempre a fiorellino. Ma potrebbero essere a cuoricino, insomma ce ne potrebbero essere differenti. Ogni calendario avrà delle sorprese. Numero 9. Eccolo. E' un'altra punta? Vediamo come sarà. Ok, utilissima questa. Questa è una punta con queste due parti morbide, diciamo rotonde. Serve per fare l'incapo quando si fanno le faccine, quindi per fare il modeling delle facce. Oppure per fare degli effetti, dei bordi, attaccare, rifinire. Utilissima. Non vedo il 10. Non vedo il 10. Non vedo il 10 perché è microscopico. Ecco, il 10 è piccolissimo. Ma dentro continua una cosa che piace a tutti. Le cane. Non sapete cosa sono? Eccole, sono queste bacchettine che all'interno hanno o della frutta o qualche altra pasta. e vanno segmentate. Io in questo momento vi ho messo 4 fruttini, ma ne ho tantissimi modelli, quindi saranno sempre differenti. Ci sono i dolcetti, le cose kawaii, i coniglietti, i versacchiotti, le pere, le cose, la frutta, tutto, dolci, cupcake, tutto. Numero 11, 11, 11, eccolo. Number 11. Qui cominciamo proprio il DIY vero e proprio. Questi sono due gancetti per portachiavi con la vitarella finale, con il gancino a vite finale. Quindi quando uno fa un po' cazzetto di fimo, lo può infilare qui dentro e creare un portachiavi di fimo. appunto, come uno dice, come faccio a fare il portachiavi con questi qua. 12. Credo sia un'altra punta. Vediamo se è... Ok, anche questa. Oh, utilissima anche questa. Ma ci sono tanti modelli, cambiano sempre. Questo serve per fare del tipo delle righettine, serve per fare i capelli, eccetera. E questa è strautile per fare le boccucce, oppure per scavare o togliere delle parti. Veramente utile. Andiamo al numero 13. Dove sarà? Dove sarà? Eccolo. Ah, il terzo fiorellino. E quindi la famiglia dei fiorellini è completa. Tre fiorellini di tre misure diverse. 14. Qui torniamo a qualcosa di grosso. Sarà un altro panetto? Sì, un altro colore. Questa volta è un azzurro. Mi piace moltissimo il 32 Caribbean Blue. È un azzurro mare. Veramente molto intenso. Molto bello. Miscelabile con gli altri colori per fare un sacco di altre cose. Quindi se lo mescolate col rosa diventa viola. Se lo mescolate col bianco diventa celeste. Insomma, potete farci un sacco di varianti. Nel 15 c'è un altro spot. Nel 16 c'è qualcosa di metallo. Oh! Questo è un cabochon. È un piattino cabochon. Quindi un ciondolo. Ma vedete che è una cornicetta. Quindi è ideale per fare dei lavori di fimo in basso rilievo. Mettendo un fondo di fimo. Piatto piatto. E poi mettendoci, non lo so. Immaginatevi il celeste. Le nuvolette. Il verde del mare. O di un prato. Scusate. Il verde del mare, no? Un prato e qualche fiorellino. O un orzacchiotto. Tutto quanto in rilievo. Poi si mette tutto quanto insieme al forno e rimane come se fosse una piccola cornicetta. 17. Piccolina, ma... Eh! Se vi ho fatto vedere il ciondolo, non poteva mancare una catenina. Eccola qui. Questa è una catenina in acciaio. Ed è, tra l'altro, è bellissima. Ha le maglie piatte specchiate. Quindi è molto lucida, molto lucente. Ed è già montata. Quindi non dovete fare niente di difficile. Ha già la sua chiusurina, il gancetto e tutto quanto. Bisogna soltanto collegarla al suo ciondolo. 18. Un altro panetto. E qui è uscito il Luistiria. Che è un lilla fantastico. Super ricco. Veramente bello. Ma non vi riesco a far vedere tutti quanti. Potrebbe esserci lilla, potrebbe esserci fluo, potrebbe esserci con i glitter marmorizzato. Ci sono 72 colori e io pescherò quelli più belli. Il 19 è un pacchettino bello, bello ciascione. Ah, ho capito cosa c'è dentro. Voilà, una boccetta. Questo qui è un prodotto importantissimo. Che non tutti conoscono, anche se lavorano il fimo, le paste polimeriche. Si chiama Cleaner. E vi viene incontro per pulire tutti quei orribili pelini che si attaccano alle vostre creazioni. Per quanto uno sia pulito, attento, con i vestiti non pelosi, tutto quanto, con i capelli legati, eccetera. Comunque nell'aria ci sono delle microparticelle di polvere. E molto spesso si posano, si depositano nell'impasto o sulle nostre creazioni. Questo prodottino qui serve proprio a pulire, a togliere tutti quanti i pelini e a rendere la nostra creazione il più pulita possibile. Il 20. E qui è una bustina piccolina che dentro contiene un'altra bustina che dentro contiene i gancini. Questi sono i gancini a vite indispensabili per agganciare e far diventare le vostre creazioni dei veri e propri charm. Ok, stiamo andando verso la fine e i pacchetti sono sempre più grandi. Siamo arrivati al 21. Il 21 è gigante e guardate che cos'è, è divertentissimo, è fichissimo. È questa pacchetta e poi è un alfabeto. Serve a scrivere sul fimo, ovviamente non solo. Questo si usa anche per scrivere sulla pasta di zucchero, sui biscotti, su quello che volete voi. Si staccano le letterine, si infilano qui dentro e poi si schiaccia. Immaginate di fare un portachiavi rettangolare, potete scriverci una frase e fargli poi il buchino per il portachiavi, metterlo al forno e avere la vostra scritta personalizzata sul fimo. Oppure potete utilizzarlo per altre cose. Potete usare le letterine tenendole in mano una per una oppure appunto inserendole una dietro l'altra qui dentro. C'è un'altra punta, questa volta con i braccini laterali. Serve per spingere o per inzeppare e incastrare dei pezzettini. Ma andiamo al 24. Io questo oggettino lo stra-adoro. Adesso vi faccio vedere come funziona e rimarrete senza la bocca aperta. Cos'è? Questo è il famoso perlinatore. L'avete mai visto? Io penso di no, perché veramente è una cosa molto, 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 molto rara. Ecco il perlinatore una volta aperto. Sono due metà, poi c'è questo pirulicchio e questa staffetta serve per creare delle perle in fimo, tutte uguali e dalle misure assolutamente perfette. Semplicemente, adesso vi faccio vedere come. Posterò un pezzettino di Uclei che ho già, è uno dei pezzettini di quelli che mi avanzano dai miei lavori. Prima di tutto devo lavorarmi un pezzettino di pasta polimerica, scaldarla fino a farla diventare appunto lavorata, gommosa e uniforme. A questa cosa serve moltissimo per la coordinazione, per la manualità fine, quindi è un ottimo esercizio per le mani. Poi si mette la nostra pallina qui, si monta la bacchettina questa da questa parte, qui questo diventerà il nostro binario e si gira questa e si inserisce così sopra, andrà a calzare proprio nel binario, vedete? E' un ovale, perfettamente perfetto. Come vedete è uscita una perlina ovale, guardate è un ovale perfetto, pare un semino, è bellissimo, ma non è l'unica cosa che si può fare. Adesso io mi sposto da questa fessura a quest'altra richiudo. Non è più un ovale, è una sfera, è una pallina perfetta, è perfetta, è tonda. Volete vedere che cosa succede in quest'ultima fessura? Ora, spostiamoci, chiudiamo di nuovo e adesso realizzeremo un bicono. Questa è quella più bella, questa è quella che tutti fanno quando la faccio vedere nelle fiere. Ovviamente potete farla del colore che volete, perché guardate è perfetta e se ne fate 10 verranno tutte 10 identiche, cosa che invece a mano non è sempre così semplice. Questo pirulino qui serve per aiutarvi alla misura, quindi lo potete utilizzare come misurino della pasta per poterla mettere qui dentro. Ma io vi consiglio di fare un salcicciotto e tagliarlo con il righello in parti uguali. Poi lo mettete qui dentro, se ci sono degli eccessi vanno a finire sopra e sotto e li potete eliminare semplicemente. Per fare il buchino alla perla il mio consiglio è quello di metterle in frigorifero per un po' di tempo in modo che si indurisca e poi passarle con uno stuzzicadenti in modo che appunto si crei il buco. E poi cuocerle e poi usarle come se fossero delle vere e proprie berline. Overview di tutto quello che ho messo qui dentro, devo dire, mi sono impegnata, però penso di aver fatto un calendario dell'avvento veramente divertente. Se vi piace usare il fimo, pasticciare o fare qualcosa di creativo, fa per voi. Se siete in zone rosse o comunque avete tanto tempo da passare a casa, potrebbe essere l'occasione per pensare meno alle cose brutte e più a qualcosa di creativo. Dopotutto ci lamentiamo sempre che non abbiamo tempo per fare le cose che vorremmo fare. E adesso che siamo quasi obbligati, potrebbe essere un modo furbo e creativo per passare del tempo in casa. Vi ho detto tutto, il link è in descrizione. Grazie per aver visto il video, ci vediamo ancora con qualcosa di creativo. Probabilmente ne farò uno a tema resina UV. Mi piacerebbe? Scrivetevi nei commenti se avete piacere oppure se avete dei consigli su qualche calendario specifico e io potrei realizzare quello che più mi piace, quello che più è nelle mie corde. Un bacio a tutti quanti, ciao! Ciao!